Salve a tutti cari amici, benvenuti sul mio canale Faber91, io sono Fabrizio e oggi in questo nuovo video vi porto un nuovo acquisto, che non è un acquisto, ma è in realtà un regalo che mi è stato fatto dal mio fratello per il mio compleanno, che è il 19 giugno. Quindi questo cartonato, perché si parla di un cartonato che era già sponsorizzato su alcuni albi che acquisto da Rabonelli, doveva uscire a maggio, alla fine l'uscita è slittata al 18 giugno e io lo sono andato a prendere con mio fratello proprio oggi alla Forbidden Planet Roma. Non vedevo l'ora, prima di andarci ho telefonato per sapere se era uscito, perché avevo telefonato ieri ma ieri non era disponibile, era disponibile oggi e lo sono andato a recuperare. Questo fantastico cartonato che è Mr. No Alien, scritto da Tiziano Sclavi e disegnato dal grandissimo Civitelli, Fabio Civitelli. Allora, questo fantastico cartonato che adesso finalmente stringo tra le mie mani, bellissimo, io sono un grande amante di Mr. No, dell'antiero per eccellenza, del mio antiero per eccellenza preferito in assoluto. Questo cartonato di cui voglio fare due chiacchiere, anche se io la storia non l'ho letta, infatti non vedo dove ritencermela. Prima cosa, ha una bellissima copertina, come potete vedere, e già la copertina fa molto, soprattutto per un albo di questo genere. Poi Tiziano Sclavi ha la sceneggiatura del maestro, di sua maestà Tiziano Sclavi, lo dico ma non lo sapete tutti quanti, che è lo scrittore di Landog. Questo cartonato che è uscito appunto ieri è però una ristampa di due storie apparse per la mia volta in Mr. No 107-108 nell'aprile-maggio del 1984, come c'è scritto all'inizio. Ecco qui, bellissima anche subito come si apre la terza pagina di questo cartonato, questo invece è la seconda pagina, appena si apre così, guardate quanto è bello già. Insomma si presenta come un classico cartonato, però di grande impatto visivo secondo me. Questo è il retro, anche questo bellissimo, ma vi voglio leggere un attimo la trama. Allora, colpito da un misterioso oggetto volante, Mr. No precipita con il suo Piper nella giungla. Alcuni indigeni lo sottopongono ad arcani reti, stando per ucciderlo quando Jerry viene salvato da un astronauta sovietico atterrato nella foresta. Come dicevo, è stata pubblicata per la prima volta nel 1984, è una inusuale e affascinante avventura del genere personaggio creato da Sergio Bonelli. E appunto questa volta scritta da creatore di Landog e disegnata dal maestro Civitelli, prima che diventasse uno dei più amati appunto disegnatori di text. Allora, queste sono alcune tavole che vi voglio mostrare. Ovviamente è in bianco e nero. Queste sono alcune tavole che vi mostro. La storia è molto accattivante, la storia è molto intrigante. Qualcuno di voi penso che l'abbia letta, io non l'ho mai letta e finalmente ora ho l'occasione di leggerla. Sono, credo, 120 pagine, credo, sono 118 pagine. La fattura, come vedete, è ottima, i disegni sono fantastici, sono straordinari. Vedete qui, mi aspetto molto da questo cartonato che aspettavo veramente con ansia, perché da tanto che lo stavo... Ripeto, in alcuni albi di Mr. No, ma anche in altri albi è stato molto pubblicizzato questa ristampa, questo ritorno. Che dire, visto poi che pare che al quattordicesimo albo delle nuove avventure di Mr. No, purtroppo si concluderà la saga. Io spero che continui, però è una cosa in più che abbiamo di Mr. No, anche se non è in un inedito. Però, insomma, ragazzi, io sono, ripeto, contento. Questo formato grande merita, risalta questa storia che ho letto che ha avuto molto successo all'epoca uscita. Ha anche un bel pubblico che l'ha amata e che l'ha ama. Che altro dirvi? Io, se siete amanti di Mr. No e siete amati questi geni, anche se non siete amanti, magari se vi piace una storia così per cambiare, per buttarvi in un nuovo genere, in un nuovo personaggio, magari non siete fan di Mr. No, però questa storia mischia un po' i generi. Che poi, una delle cose più importanti, secondo me, la cosa anche che la fa da padrone è che comunque c'è Tiziano Scrapi alla sceneggiatura, quindi di certo non sarà un fumetto che ci lascerà delusi. Ecco, vi mostro qualche altra bella tavola, che ripeto, non l'ho ancora letto neanche io, però lo aspettavo. Per me è come se fosse un inedito alla fine. Ecco, poi, nel finale, c'è anche questo bel Perduti nello spazio di Luca Barbieri, con illustrazioni sempre di Fabio Cipitelli. Eccolo qui. Ho cercato di non guardare l'ultima parte per non vedere come va a finire. Però, vedrete, c'è un bel approfondimento finale che è di uno, due, tre, tre pagine, quindi diciamo che merita, sia come viene presentato, sia come è impostato. Bella anche la costina, una collezione fantastica, ho scritto anche qui. Insomma, un cartonato di buona fattura, una storia amata dai fan di Mr. No, ma anche da... Ho letto qualche riflessione anche di persone che dicevano che non avevano mai letto Mr. No, però questa storia, essendo disegnato sclavi ed avendo questo disegnatore, ha comunque entusiasmato lo stesso. Sono in molti che aspettavano questa distampa. Io non ci ho detto, sono uno di quelli. Non vi posso dire nient'altro, ma non lo farei comunque, perché comunque questa è una storia che è meglio non spoilerarla. Vi ho mostrato le tavole apposta, così magari, se siete interessati, io ora lo possiedo. Questo regalo che mi ha fatto referlo mi ha fatto molto piacere, lo sono scelto. Che altro dirvi? Vi dico il prezzo, il prezzo è di 22€, eccolo qua, costa 22€, è un prezzo che i cartoni comunque saranno tutti intorno ai 20€. E che altro dirvi? Spero che questo mio video vi abbia incuriosito, io vi consiglio di dargli lo sguardo, poi decidete voi, fatevi sapere qualche cosa nei commenti, se l'avete letto, se vi piace questa... questa distampa e cosa ne pensate. Detto questo, vi dico anche di mettere magari un mi piace se vi è piaciuto il video, di iscrivermi al canale, perché posterò altri video in cui vi mostrerò altri, penso, i nomi acquisti e ancora ho da mostrarvi qualche blocco di altri fumetti che ho acquistato. Detto questo, un abbraccio a tutti quanti e al mio prossimo video. Vi saluto con Alien in prima fila, eccolo qua, di Sclavi e Civitelli, il nostro anterior vera eccellenza che si butta in questa, non nuova, ma in questa bellissima avventura. Ciao a tutti!